Siamo con Stella Pulpo, autrice del blog Memoria di una vagina e del libro Fa uno squillo quando arrivi. Domenica mattina, quindi occhiali da sole, e oggi parleremo dei sentimenti e delle emozioni ai tempi di internet. Quindi come i social network, ti chiedo, cambiano il modo di vivere anche le relazioni interpersonali? Beh, lo cambiano molto, nel senso che questi strumenti sono diventati estremamente intrusivi anche nelle nostre sfere personali, intime persino. Ed è stato un cambiamento tra l'altro molto veloce, in un arco di tempo piuttosto breve. Non abbiamo probabilmente avuto ancora, forse stiamo iniziando a farlo adesso, modo di elaborare, digerire, interpretare e non subirlo e basta questo cambiamento. Io ho notato che se magari Facebook può aiutare a tenersi in contatto con amici, anche lontani, in altre città, in altri stati, quando si inizia a parlare di persone conosciute online, gelosie, storie passate che tornano misteriosamente tramite like, foto, diventa tutto un po' più ansioso. Quindi come ci si può difendere magari anche da questo tipo di nuove paranoie contemporanee? Beh, contestualizzandole, cioè fondamentalmente capendo, per esempio, che è un paio di doppie spunte blu che non hanno avuto risposta, sono comunque due doppie spunte, piuttosto che un like è un like. Ora, non è una cosa immediata perché appunto, cioè la maggior parte delle relazioni entra in crisi, ma anche proprio matrimoni che finiscono nelle cause. La prima parola che viene fuori è Facebook, sono inondati di screenshot di Facebook, quindi sicuramente è più complesso, però fondamentalmente dobbiamo sforzarci di capire e di interpretare il tempo che viviamo, dando alle cose il giusto peso, essere necessario, ma anche rivalutando un pochino l'offline per quello che concerne le emozioni, i sentimenti e le relazioni. Senti, te hai, diciamo, ottenuto successo grazie a questo blog, Memoria di una vagina. Fra l'altro i blog esistono sempre, non esistono più, non li usano ancora in molti forse, cosa ne pensi? Penso che forse siano meno trendy di una decina d'anni fa, però c'è ancora tanta gente che scrive e che continua a farlo sul blog. Io penso che abbia comunque senso perché è un collettore di contenuti comunque più organico, migliore in un certo senso anche dei social dove comunque tutti i contenuti, tutto ciò che scriviamo e pubblichiamo è in ogni caso più volatile, permanente però volatile e invece il blog diciamo che crea anche uno spazio di riflessione, di confronto, una community, uno zoccolo duro che comunque resta lì. Quindi sì, Memoria di una vagina è diventato un blog molto seguito, però anche grazie alle persone che partecipano e che arricchiscono con i loro contenuti. Quindi te è un giovane scrittore o scrittrice, consiglieresti di provare a lanciarsi comunque online? Sì, 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 al di là di ogni dubbio, gli consiglierei di scrivere un blog, gli consiglierei ovviamente anche di usare i social network che sono comunque imprescindibili perché poi sono quelli che ci consentono di arrivare anche al nostro pubblico e di tenerci in contatto con il nostro pubblico, instaurare una relazione che è bidirezionale nel senso che il blogger, l'autore, offre e dà il suo contributo, però ne riceve anche tanto indietro, riceve feedback. Quindi io a un aspirante scrittore o scrittrice consiglierei assolutamente di leggere, di leggere tanto, di leggere i libri, di leggere i blog che gli piacciono e di cimentarsi. L'ultimissima domanda, è possibile oggi vivere fuori dai social network? Ci sono persone che lo fanno e sono diverse da noi, sono alieni venuti da un altro spazio? È un po' estrema, è un po' estrema come decisione. Possibile è possibile, se sia giusto non lo so, io credo che comunque sia opportuno conoscerli i social network perché sono una parte integrante della nostra società quindi decidere di non usarli, di non capirli, vuol dire comunque tagliarsi fuori da una parte importante di comprensione del nostro tempo. Detto ciò è anche giusto imparare a usarli, cioè è anche giusto ogni tanto liberarsi per un po' e concentrarsi anche poi sulle situazioni più tradizionali. Non vorrei suonare una reazionaria, però ci può stare, insomma. Grazie. Grazie.